Giustizia per Arianna sono le parole che campeggiano sullo striscione srotolato questa mattina dinanzi all'ingresso della corte d'appello della città della giudiziaria di Salerno dai genitori della giovane cavese Arianna Manso che hanno iniziato lo sciopero della fame. Nata sana 15 anni fa oggi tetraplegica sorda e ipovedente è stata riconosciuta dalla giustizia vittima di mala sanità in seguito ad un ricovero per una bronchiolite alla tenera età di due mesi e mezzo. Un percorso giudiziario è durato nove anni poi la condanna è emessa lo scorso novembre che vede imputato all'ospedale Cardarelli di Napoli che dopo il primo giudizio ha fatto però opposizione ricorrendo in appello. Con amici e parenti Eugenio Manso e Matilde Memoli con la giovane Arianna in carrozzella hanno esposto questa mattina dinanzi al tribunale di Salerno uno striscione con la scritta giustizia per Arianna. Tre milioni di euro riconosciuti come risarcimento in primo grado, un errore medico. Per l'avvocato Mario Cicchetti il comportamento dell'ospedale Cardarelli di Napoli è inaccettabile. Dopo la condanna hanno deciso di non onorare la sentenza. Siamo certi però che la Corte confermerà la condanna e l'immediato pagamento ha replicato il legale mentre la famiglia ha fatto appello anche al governatore Vincenzo De Luca. Abbiamo vinto la causa di primo grado a novembre, adesso il Cardarelli il 25 giugno ha fatto un appello, si è appellato e hanno chiesto la sospensione dei pagamenti e noi siamo qui proprio perché noi vogliamo giustizia per mia figlia che se lo merita, hanno sbagliato, l'hanno ridotto sulla sedia a rotelle, a questa ora non dovevamo stare qui davanti al tribunale, ma bensì su una spiaggia a mare a prendere il sole come tutti gli esseri umani, mentre siamo costretti ancora a correre per vedere una giustizia perché merita giustizia, hanno sbagliato. Questa storia dura 15 anni, oggi Areanna ha 15 anni, ricordiamo però che cosa è accaduto 15 anni fa, la piccola aveva appena due mesi e mezzo, una bronchiolite, si va in ospedale? Due mesi e mezzo, una bronchiolite è stata ricoverata, prima all'ospedale di Cavate Tirreni, dopo è stata trasferita al Cardarelli di Napoli, Cardarelli di Napoli è stata intubata e sedata per 45 giorni, dopo 45 giorni è stata dimessa in buone condizioni generali, che aveva bisogno solo di fisioterapia respiratoria, mentre quando siamo arrivati a casa, l'abbiamo portata a casa, dopo un giorno, due giorni la bambina è diventata un pezzo di legno, non mangiava più, gridava e piangeva in continuazione, non dormiva, perché noi abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava e abbiamo fatto, invece di andare a fare i controlli a Cardarelli siamo andati al Santo Bono di Napoli e lì ci hanno riscontrati tramite un'attacca celebrale, ci hanno riscontrati il danno che ci hanno procurato, atrofia celebrale, cortico e sottocorticale. Oggi Arianna è tetraplegica, non sente, non parla, ci sono tante difficoltà che sono state anche acclarate dalla perizia medico-legale, da un processo che è durato nove anni, oggi c'è rabbia, perché questo è un errore medico a vostro avviso. Infatti, tanta rabbia, perché è stata accertata da una perizia scelta da medici dal tribunale, che è stato un sedativo tiopentale, precisamente si chiama, che gli è stato dato per 14 giorni di seguito col perdice il sistema nervoso centrale, come infatti mia figlia è stata sulla sedia a rotella, non mancia da sola, non cammina, sente pochissimo, vede pochissimo, sta avendo tanti problemi, si sta deformando con la schiena, con i piedi, non si mantiene in piedi, ha un anglo sublussato, ha un sacco di problemi. Noi adesso ci siamo scocciati di aspettare. Ad Arianna, con il primo grado, gli è stato riconosciuto un risarcimento danni di oltre 3 milioni di euro, oggi ovviamente è tutto fermo perché c'è stato il ricorso in appello, Arianna dovrà essere sottoposta anche ad ulteriori interventi chirurgici, insomma il cammino è molto lungo e tortuoso e c'è bisogno ovviamente di soldi, voi chiedete solo giustizia? Noi chiediamo giustizia, una giustizia vera perché abbiamo veramente, sono tanti anni e siamo stati sempre zitti, sempre fermi, non abbiamo mai potuto parlare noi personalmente con un giudice, adesso stiamo ancora aspettando dopo aver vinto una causa e non mi sembra giusto, dopo aver vinto una causa accertata per quello che gli hanno combinato e non mi sembra giusto aspettare ancora. Grazie